Pensiero del giorno. Sono divino e sacro perché sono benedetto personalmente da Dio e sono la sua creazione perfetta per l'eternità. Sappi che sei divino. Oggi vogliamo ricordarti della tua natura divina. Sei un essere sacro nato dal creatore in un'atmosfera di totale amore. La tua anima eterna è stata creata personalmente da Dio e da Lui benedetta. Ci sono volute molte cure e attenzione per crearti. Sei stato fatto intenzionalmente, ossia il tuo intero essere è stato accuratamente pianificato e progettato. Tutto ciò che riguarda il tuo vero io è perfetto. Durante la giornata ricordati della tua natura divina e rendi onore alla tua essenza sacra in ogni azione che fai. Sappi che tutti fanno parte della tua sacra famiglia. Cogli questa santità in te stesso e negli altri e la tua giornata sarà veramente divina.